Salve a tutti, il giorno dopo con il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, tra riconfermato un grande successo di consenso anche personale. Sì, sono molto contento perché si è dimostrato che i nostri cittadini guardano al sodo e non alle polemiche e soprattutto hanno perfettamente percepito quello che è stato il messaggio che in questa campagna elettorale ho cercato di far passare, cioè quello di guardare al futuro, di un progetto di Regione che sia molto votata ad affrontare le sfide che dovremo assumere nei confronti di tutto il mondo. Ecco, diceva guardare al futuro, se ci giriamo siamo sul terrazzo di Palazzo Lombardia, che Lombardia vede per il futuro? Una Lombardia sempre protagonista, una Lombardia con il cuore sempre oltre l'ostacolo, una Lombardia che punterà sull'innovazione, sulla ricerca, che sarà più connessa, che sarà più sostenibile, una Lombardia che sarà sempre solidale. Se le dico che parlando anche con i colleghi, con chi magari la conosce meglio, una delle definizioni più importanti che la riguardano è mai arrogante, condivide con me, cioè una delle sue doti anche nei commenti più recenti di queste ultime ore è di aver pensato molto a se stesso e comunque di non essere mai arrogante nei confronti di nessuno. Ma io credo che l'arroganza sia una manifestazione di debolezza perché si cerca di non affrontare il problema, io invece sono dell'opinione che quando ci sono dei problemi si debbano affrontare e si debba cercare di trovare la soluzione migliore. Con l'arroganza si bypassa il merito. Ma è arrogante e sempre disponibile perché lo abbiamo visto noi nel nostro piccolo, chiaramente noi rappresentiamo una testata che poi racconta la storia della Giunta, però lei generalmente con tutti, ma davvero con tutti, è sempre stata molto disponibile. Beh, credo che sia uno dei compiti di chi fa questo lavoro, cercare di ascoltare tutti, di parlare con tutti e cercare di far passare il proprio messaggio, le proprie idee a tutte le persone che si vogliono confrontare. Credo che sia veramente un dovere. Grazie a chi ci ha seguito, un saluto a tutti gli ascoltatori di Lombardi Notizie Online. Grazie e buongiorno a tutti.